Il dibattito sul MES è un dibattito che abbiamo iper politicizzato nel nostro paese ma che negli altri paesi è un dibattito di contabilità finanziaria nel senso che il MES ci permette di avere risorse a tassi molto bassi che però sono bassi soprattutto per un paese come l'Italia che ha un elevato costo dell'indebitamento a causa del nostro debito pregresso e delle fragilità della nostra finanza pubblica che ci portiamo ahimè dietro da molti decenni quindi è chiaro che per non tutti i paesi la convenienza è la stessa per l'Italia conti alla mano e anche io dico regole che ci vengono proposte alla mano questo prestito MES è una opportunità molto conveniente molto utile secondo me lo ha detto con chiarezza il segretario del PD Nicola Zingaretti noi siamo a favore dell'attivazione del prestito poi il governo deve valutare i tempi i modi perché questo riguarda anche come ho detto delle questioni di tecnicalità finanziaria ma sul punto politico MES sì o MES no sicuramente noi diciamo MES sì